Ciao amici! Benvenuti a questo nuovo video! Oggi giochiamo a un nuovo gioco! Indovina chi? Chi sono? Chi sono? Aspetta! Ce l'ho! Ce l'ho! È un ballerino! No! 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 È Zazà! È Zazà che invece di tirare il regore della vita, intrattene il portiere con un balletto! Zazà! Zazà! Ah ok! Però questo non lo indovinerai mai! Chi sono? Un altro de bono! Pelle! Pelle! Li mortacci! Tu! A noi donne guardavamo le partite solo per te! E adesso ci toccherà consolarci con Galles e Portogallo! Mi sa proprio di sì! Vero ragazze? No amore! Che hai indovinati tutti e due! Ma si possono calzare per i fuori così? Guardate qua ragazzi! Che diluvione! Vabbè amici! Dai! Guardiamo comunque il lato positivo! Ci davano per spacciate già dall'inizio dell'europeo! Però dai! Sono arrivati ai quarti! E quarto di finale tutti eeeh! Neanche tre partite a casa! Uscivamo subito! Invece no! Bravi ragazzi! Comunque Zazà è per le mannoggio! Però vabbè lo sport è fatto anche di queste cose giusto? Giustissimo! E vabbè! Di gente che balla invece di calciare! E' uno sport anche il ballare! Zazà! 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 Continuate a seguirci! Iscrivetevi al nostro canale! Mi raccomando! Se non vi iscrivetevi perdete tante di quelle cose bellissime! Dovete iscrivervi! Condividete! Mettete mi piace! Mi piace! Mi piace! Mi piace! E alla prossima! Ciao amici! Ciao ciao ciao! Anzi facciamo come Zazà! Zazà? Zazà! Zazà zubka 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 zub Zub icvemeno zubb Insellezzezzezzezzezzeessze!